amici di motosport.com ciao a tutti sta partendo la stagione della formula 1 con i test e cerchiamo di cominciare a guardare questa stagione 2024 con un occhio che va a scandagliare gli aspetti più reconditi di questa formula 1 che a volte ha atteggiamenti veramente incredibili e strani ovviamente con noi c'è il dottor cecarelli ciao riccardo grande capo di formula medicine con te vorrei aprire un argomento che mi ha colpito abbiamo un po accennato nella scorsa puntata al caso christian horner ma io sono rimasto molto più colpito riccardo dal fatto che la federazione internazionale piuttosto che il promotore del campionato di formula 1 quindi liberty media abbiano pubblicato dei comunicati nei quali invitano la red bull a prendere una rapida decisione non entrano nel merito della questione però vogliono una chiarezza il più rapida possibile ma non è un po una intromissione cioè negli affari di red bull saranno poi questioni di red bull che si risolveranno c'è stato anche un intervento addirittura del presidente della ford futuro sponsor e o diciamo partner per quello che riguarda il motore 26 che se ne è venuto fuori dicendo noi abbiamo un valore etico altissimo e vogliamo chiarezza vedi franco sì ciao buonasera a tutti ciao credo che sia un po noi sappiamo che la formula 1 sta cambiando no quante volte ci siamo detti poi noi siamo navigati abbiamo visto la formula 1 della prima storia ora vediamo la formula 1 attuale ed effettivamente ci sono tanti cambiamenti possono piacere possono non piacere ma ci sono tanti cambiamenti che sono un po i cambiamenti che riflettono anche lo specchio della società perché anche la società sta cambiando e certi atteggiamenti che una volta erano atteggiamenti che non per lo meno non ai quali non veniva data una una risonanza così elevata oppure rimanevano confinati nella nella famiglia perché alla fine ognuno i panni sporchi se li deve lavare in casa sua oggi oggi che c'è questo diciamo questa questa gran cassa mediatica anche sulla moralità degli individui il bel pensiero noi sappiamo benissimo che oggi c'è un pensiero molto attento alle alle dinamiche al sessismo alle dinamiche al rispetto delle delle varie delle minoranze tutte queste queste situazioni fanno parte della nostra società fanno parte anche da formula 1 che rispecchia la nostra società quindi se c'è tra virgolette uno scandalo all'interno dell'ambito della formula 1 non è più confinato un team ma confinato al mondo della formula 1 il mondo della formula 1 vuole essere un mondo che rispetta le regole le regole di questo di questa epoca e di questo di questa era contemporanea e quindi la formula 1 si preoccupa che non ci sia un'immagine che possa essere criticabile dall'esterno poi se tutto questo come dare un giudizio a tutto questo noi siamo abituati come dico io che panni sporchi si lavano in famiglia però posso anche capire che la formula 1 vuole che le persone che entrano entrano in quel patto che abbiano una certa una certa reputazione una certa credibilità e quindi si chiede chiede interviene chiede risolvete questo problema fateci sapere e cercate di risolverlo in una maniera migliore quindi è un'interferenza sì è un'interferenza assolutamente sì è giusto che sia così con gli occhi di oggi probabilmente è giusto anche che sia così io mi astengo da dare giudizi perché non a me dare un giudizio però sicuramente è un po' strano che che uno vada a mettere il naso in casa degli altri però anche un po come se certe volte no se noi ci ci guardiamo un po intorno certe volte quando andiamo a lavorare in un certo ambiente ci chiedono di non avere diciamo degli scheletri nell'armadio quindi se questo può essere consigliato per la formula uno scheletri nell'armadio che poi ovviamente è una vicenda della quale noi non possiamo esprimere giudizi perché non sappiamo dove sta la verità quindi ci teniamo ben al di fuori da da emettere giudizi speriamo che tutto si risolva nella maniera migliore per per christian orner perché un personaggio importante io spero che possa uscire nella maniera più pulita possibile però posso anche capire che il mondo della formula uno chieda a una certa etica morale e questo lo posso capire ecco mi va bene il discorso che hai fatto la seconda domanda che mi viene automatica e qui entra in campo il mental coach è christian orner ha presentato l'rb20 ed era lui in prima persona sembrava che in quel momento red bull volesse sottolineare il fatto che lui è il ceo lui è il team principal addirittura elmuth marco era confinato nell'ambito del pubblico e non lo si è mai visto si è visto il adrian newey si è visto ovviamente max verstappen sergio perez come è giusto che sia la domanda che ti voglio fare oggi partono i test tre giorni di test in bahrain lo scenario non è quello della comfort zone dove sei nella tua presentazione dove nessuno in qualche modo in casa tua ha da dirti qualche cosa oggi invece in bahrain nel primo dei tre giorni anzi nei tre giorni troveremo un christian orner sicuramente in una situazione decisamente diversa quanto questo io non lo chiamerei scandalo questo episodio questo caso perché non si decodifica ancora nella maniera più chiara può invece incidere sulla sua attività nel rapporto con le altre squadre nel rapporto con la federazione se ci sono due aspetti che poi quante volte li li vediamo li leggiamo anche sui giornali in ambienti diversi dal nostro ci sono due aspetti uno la credibilità che puoi avere nei tuoi interlocutori se ti affibbiano addosso un etichetta perché ripeto non sappiamo le vicende e ci asteniamo dai giudizi però sappiamo benissimo che certe volte anche soltanto quando sei indagato come succede tante volte ai politici o altre situazioni della nostra società quando sei indagato e quando ti mettono un etichetta la gente ti guarda sotto una luce diversa e questo è che può essere sicuramente un aspetto che può influire sul comportamento di una persona sulla sua credibilità l'altro aspetto è quanto te ne risenti quindi quanto va influire sul tuo sulla tua efficienza sulla tua personalità ovvero una persona io immagino un Christian Horner che ha una personalità molto forte e che se da lui è l'unico che potrà sapere com'è la reale situazione nel momento in cui è sicuro delle sue azioni è sicuro di quello che ha fatto un Christian Horner sicuramente non si fa condizionare da quello che pensa agli altri quindi da questo punto di vista io credo che lui sia intaccabile quindi se la se la Red Bull gli da continua a dargli fiducia penso che sia che diciamo che sappiano quello che fanno e non credo che Christian Horner ne possa risentire è più perché l'effetto l'effetto si è trasformato più che dal sex gate come partito come una guerra poi interna nel mondo Red Bull e allora gli aspetti interno esterno vanno probabilmente a meschiarsi in una fase in cui non c'è un giudizio finale ma infatti ti dico se la società o quindi se Red Bull e io poi non so le fazioni interne però se il management di Red Bull supporta e conferma Christian Horner vengono diciamo quelle che si chiamano le politiche interne dei team vengono subito messe a tacere perciò non cambia nulla a quel punto questo un Christian Horner non credo che possa essere minimamente nel suo lavoro influenzato da questa situazione quindi tutto dipende molto da da quanto lo supporta Red Bull questo è importante quello che poi sono situazioni esterne a Red Bull sono fattori che magari possono andare a influire sulle persone più sensibili che ci tengono all'immagine però ripeto un Christian Horner non credo che sia uno di quei personaggi che si fa condizionare dai giudizi dal sentore di situazioni esterne io credo che per lui sia importante come il team come la proprietà come il management gestisce questa situazione e quindi nel momento che ha piena fiducia e consapevolezza della sua situazione io ovviamente mi auguro che nesca in denne il più pulito possibile a quel punto io credo che non ci siano non vada intaccare minimamente né nel team né su Christian Horner personalmente quindi non lo vedo un grosso problema ecco se ci ricordiamo l'episodio che però quello fu un episodio ben documentato l'episodio di Max Mosley è ovvio che quando rappresenti una carica importante è un episodio come quello che vide al centro d'attenzione Max Mosley che fu documentato messo in piazza in pubblica piazza lì è una situazione già diversa perché però lì il messaggio negativo non era tanto l'aspetto sessuale quanto i riferimenti al nazismo c'era una situazione che diventava politica certo io direi che c'erano due situazioni abbastanza compromettenti una quella ovviamente in riferimento al nazismo e l'altro anche in riferimento un pochino al contesto dove era il contesto e com'era il suo comportamento in quel contesto è chiaro che lì quando devi rappresentare una federazione che quindi non è tanto un tuo problema interno è un problema di credibilità verso tutte quelle strutture alle quali devi mostrare una estrema professionalità è chiaro che lì va a incidere ma incidere parecchio per Christian Horner penso che la situazione sia completamente diversa quindi non credo che ne possa e ripeto non credo che ne possa uscire uscire in qualche modo azzoppato se la società dietro di lui se quindi Red Bull fa quadrato con lui a quel punto penso che tutto poi si sgonfia velocemente allora qui si corre molto velocemente ho letto sui social una notizia che mi ha molto incuriosito perché hai cominciato a lavorare con Sinner e Yannick è già arrivato a essere terzo nel mondo siccome non ti piace stare indietro hai raggiunto un accordo e questo mi ha stupito molto infatti mi incuriosisce per cui ti domando hai fatto un accordo con la Shifrin la sciatrice più vincente di sempre e perché dovrebbe venire a Via Reggio e lavorare per migliorare il suo status mentale? allora dovrebbe è venuta a Via Reggio è voluta venire è voluta venire a Via Reggio siamo rimasti ti dico la verità quando abbiamo ricevuto la chiamata che voleva venire quattro giorni a Via Reggio che tra l'altro è infortunata quindi è venuta con la sua con la sua coach ski coach e anche con la una ragazza che la segue nella riabilitazione quindi è venuta da noi a proseguire la riabilitazione però ne ha approfittato per allenarsi sul mentale e ti dico la verità siamo rimasti un po' stupiti anche noi per primi perché la numero uno della storia dello sci non solo del momento corrente ma della storia dello sci che viene da noi per allenarsi con il Mental Economy Training ci fa capire come stiamo riuscendo a sdoganare questo tipo di allenamento anche sui numeri uno perché finora in tutto questo contesto il mentale è sempre visto come qualcosa per chi ha dei problemi è sempre stato visto così tanto che guarda sono stato settimana scorsa anche in una società di calcio che è tra le più forti al mondo e fuori d'Italia e c'era un psicologo ho incontrato lo psicologo di questa squadra e praticamente lo psicologo non lavora non lavora perché i calciatori dicono non abbiamo bisogno quindi conferma quello che dico sempre che le statistiche dicono che i numeri uno meno del 5% sono propensi a lavorare con gli psicologi a lavorare sulla mente e noi che abbiamo Sinner che abbiamo la nazionale sci canadese che abbiamo la nazionale sci americana ci rendiamo conto che stiamo portando una nuova cultura una cultura che parte da un presupposto la prima domanda che facciamo è chiediamo ok se è il numero uno ma ti ritieni perfetto e ovviamente solo uno stupido risponderebbe che si ritiene perfetto quindi è ovvio che qualsiasi atleta dice no ok allora andiamo a indagare quali sono i margini di miglioramento e i margini di miglioramento possono essere minuscoli per chi è già ad alto livello ma come una macchina vincente come la Red Bull vincente che però cerca ancora i margini di miglioramento però non è che cerca un secondo quindi è il concetto dell'allargamento della comfort zone anche del numero uno esatto di cercare di ottimizzare le risorse cercare di trovare un'ottimizzazione di risorse già elevate e qui faccio un po' una critica al mondo del motorismo e questo con rammarico perché io vengo da questo mondo però mi rendo conto che è più facile trovare dei numeri uno aperti mentalmente negli altri sport piuttosto che nel motosport nel motosport è difficile che qualche pilota di Formula 1 accetti di lavorare sul mentale se non è già cresciuto con questo mentale ma se arriva in un secondo momento quasi nessuno, anzi direi proprio nessuno vuole lavorare perché pensa io sono in Formula 1 non ho più niente da imparare credo che questo sia un deficit culturale dovuto al fatto che c'è una macchina che determina anche la griglia non soltanto la prestazione quindi il pilota non ha un riscontro diretto tra la sua prestazione e la posizione in griglia perché è sempre anacquato dalla macchina e quindi questo riscontro diretto è difficile averlo anche se per i tecnici della squadra in realtà c'è una telemetria che è sempre più invasiva e quindi certi numeri li riesce a mostrare ci siamo detti più volte in un calendario che sarà di 24 gare quest'anno pensare che uno possa mantenere lo stesso standard di capacità dell'esprimere il meglio a livello mentale per l'intera stagione è praticamente impossibile però non c'è questa consapevolezza in ambito di piloti e soprattutto probabilmente non c'è neanche la conoscenza di un'offerta che possa soddisfarli quindi c'è un gap culturale un gap culturale che noi cerchiamo piano piano di andare a ridurre perché noi siamo convinti che un allenamento mentale ma tecnologico tecnologico come facciamo noi quindi che è paragonabile al rapporto ingegnere di pista pilota il nostro rapporto tra noi e gli atleti è la stessa cosa perché si basa tutto su numeri ed evidenze grafici, analisi di grafici sono convinto che questo sarà il futuro però sì, l'automobilismo è un po' indietro rispetto agli altri sport perché anche in tanti altri sport abbiamo richieste di personaggi ad alto livello sei arrivato all'astronauta che è andato in orbita quindi mi sembra che il segno è quanto mai chiaro da questo punto di vista assolutamente sì però mi verrebbe da dire Nemo è profeta in patria se la mia patria è l'automobilismo mi rendo conto che abbiamo molti più margini negli altri settori piuttosto che nell'automobilismo a parte i giovani ecco, i giovani che crescono crescono con un'altra mentalità quindi io penso che nelle prossime generazioni ci sarà sicuramente un'apertura mentale maggiore però ancora il pilota fa fatica a pensare che un approccio mentale ottimizzato può portare a guadagnare qualche centesimo di secondo così come può portare a guadagnare qualche centesimo di secondo un setup migliore ecco, il concetto è lo stesso un setup mentale e noi sai benissimo Franco ci conosci da anni che noi abbiamo la testa dura quindi proseguiamo nei nostri progetti magari bisogna fare un giro lungo per poi tornare indietro al punto di partenza e chiudere il cerchio assolutamente sì è quello che stiamo cercando di fare però intanto le soddisfazioni arrivano da tanti altri sport tra l'altro nell'ultima gara recentemente ora uno degli atleti canandesi che è venuto a noi ha fatto il suo primo podio è arrivato il secondo un ragazzo giovane, il Super G quindi vediamo che funziona funziona, l'aspetto mentale funziona bisogna cominciare a far capire che non è soltanto per chi ha dei problemi ma anzi e soprattutto per i campioni per ottimizzare le loro risorse perché chi ha più risorse deve imparare ad usarle il campione ha più risorse però spesso e volentieri magari si siede un po' sulle sue risorse quindi non impara a usarle un po' come un figlio viziato che non impara a usare le sue capacità perché tanto la famiglia gli dà tutto per me ecco il grande campione che ha tutti gli ingredienti se non lavora su se stesso diventa un po' come il figlio viziato e quindi noi cerchiamo di portare questa cultura che secondo me un primo o poi anche nell'automobilismo diventerà più diffusa rispetto a quello che è adesso molto bene puntata interessante siamo arrivati in fondo amici di motosport.com allora iscrivetevi al canale così riceverete le informazioni dei prossimi video e in questi giorni abbiamo delle sorprese quindi state allerta commentate qui sotto fateci sapere i temi mi sembrano che siano stati estremamente interessanti Riccardo grazie appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo grazie Franco arrivederci a tutti alla prossima